Buonasera a tutti Buonasera e benvenuti anche questa sera alla nera fondazione Carivit qui a Largo San Pietro Mi fa piacere vedere che è gremita anche questa sera Mi fa piacere di vedervi qui e mi fa piacere di vedere qui Quinto Figari che oltre a essere storico, teorico e chissà quanto è scrittore è anche un amico e quindi sono contento che sia su questo palco e non sarà un unicum perché Quinto sarà tra i protagonisti della giornata di domani giornata che sarà interamente dedicata alla figura di Defuc la vuole introdurre e condurre l'incontro sarà Flavia D'Angelo che ha già preso posizione si parlerà della leggenda di Montefiascone lascio la parola a Flavia, buona serata Allora, innanzitutto volevo partire parlando proprio un attimo di te perché ormai il tuo nome è legato in questi ultimi ultimissimi anni alla storia di Defuc io te la racconto e tu mi dici vero o falso a seconda che sia consono alla leggenda non alla storia e tutto quello che dopo tu hai scoperto la leggenda che io so è che nel 1111 un vescovo stava scendendo dalla Germania a Roma si faceva precedere da un servo, detto servo Martino ancora vado bene, ancora vado bene e questo servo andava avanti e assaggiava i vini nelle varie locande e se il vino era buono lasciava un segno in modo che il suo quadrone poi si fermasse nella locanda giusta diciamo, un po' un trip advisor dei tempi, era il certo momento e era, dunque, allora, se mi ricordo bene a Siena scrisse Est a Monte... ahia, avevo errore poi a Urvieto scrisse Est Est, quindi qui c'è poi arrivò a Montefiascone, assaggiò il Moscatello locale e scrisse Est 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 il vescovo Defuc arrivò a Montefiascone e beve così tanto vino che morì e il servo, disperato per la morte del suo signore, al quale era legato anche dal comune interesse enoico e lo fece seppellire a San Flaviano e lasciò un'incisione in ricordo che diceva Procter Est 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 Procter Minium Deus Meus Mortus Est Troppo bravo Troppo bravo, no, mi sono preparata e quindi questa è la leggenda e in realtà, come accade anche ai giorni nostri, una storia viene parlata, proparlata, ripetuta e diventa vera Il servo Martino diventa Martino ai primi del Novecento perché sennò viene geneticamente definito servo Dico questo per col perché introdurgo anche quello che sto dicendo perché la leggenda di Defuc mantiene sempre lo stesso impianto fondamentalmente però varia nei secoli, nel tempo, nel racconto Nei nomignoli Defuc, diciamo come lo chiamiamo noi anche questo nomignolo è recente però viene chiamato Defuc, Deuc, Defug, Fugio, Fugius poi gli vengono attribuite diverse cariche diventa il vescovo, il barone, ecclesiastico, un bravo uomo voglio dire, gli ingredienti seppure l'architettura del racconto è più o meno sempre la stessa però gli ingredienti cambiano quasi sempre Come sono arrivato a questo materiale? A questo materiale ci sono arrivato è un po' diciamo la novità diciamo che c'è nel mio lavoro perché diciamo vengo un pochino tra virgolette accreditato di avere un punto di vista particolare comunque diverso e comunque diciamo sono andato a raccontare questa storia in una maniera completamente differente da quello che diciamo era la tradizione perché diciamo rispetto a quello che era possibile fare fino a 10.000 anni fa ho avuto la possibilità di accedere alle banche dati digitali che stanno sul web, su internet voi considerate che gran parte del materiale bibliotecario del medioevo a parte che le fonti medievali sono sparite quasi tutte cioè noi quando parliamo di medioevo questo faccio diciamo tra parentesi parliamo sempre di materiale diciamo parziale che spesso viene elaborato con un punto di vista parziale e che ha dato vita quasi sempre o spesso insomma a considerazioni comunque parziali faccio l'esempio di Federico II che ho citato per esempio l'archivio di Federico II è andato quasi tutto distrutto durante la seconda guerra mondiale perché diciamo era costruito tutto presso Napoli e col timore che fosse bombardato dai tedeschi durante la guerra fu trasferito e poi invece il posto dove è stato trasferito è andato, c'è stato un incendio, è andato distrutto quindi le fonti sono molto limitate però diciamo con la possibilità che abbiamo adesso con internet diciamo molte biblioteche, istituzioni private, pubbliche hanno digitalizzato tonnellate di volumi quindi noi abbiamo la possibilità che c'era prima negata di accedere a materiali inediti materiali che comunque ha provenienze insomma certe il libro che tu presenti oggi di John Gaisus si chiama Fabula Montefiasconi ed è uno dei primi testi che in realtà si propone di indagare a distanza di molti anni dall'inizio dal momento in cui si diffonde la leggenda se la leggenda abbia un fondamento di verità o meno che ha detto in maniera diciamo non completamente esatta sono due testi è la favola di Montefiasconi di John Gaisus che è del 1680 che è un testo completamente scritto in latino greco antico e tedesco per cui diciamo sono stato la professoressa dell'entra di Maria che non ha fatto un lavoro strepitoso e stasera non ce l'ho avvisato però non posso che essere due grado e poi l'altro testo invece è del 1690 è scritto da un tedesco che si chiama Goebel Roth e un testo invece in tedesco antico con inserti in greco e in latino un pochino più semplice però mi sembra sempre molto complicato il primo testo era noto cioè la favola di Montefiasconi era nota perché viene citata in diversi volumi lo cita il Buti, viene citato diciamo in parecchi lavori che trattano dell'argomento invece il secondo testo è inedito cioè non se ne conosceva né l'esistenza né il contenuto e questi testi che cosa portano di nuovo? diciamo che prima che arrivassi io a Montefiasconi qualcuno se ne era già accorto che nel racconto della storia diciamo c'era qualcosa che non andasse e comunque diciamo il concetto di fondo dei due testi è questo praticamente entrambi i relatori dicono noi ci scusiamo che in un'università facciamo discorsi di questo tipo perché non si dovrebbe parlare in contesti accademici di vino o pregature o cose del genere però c'è ora di finirla con questa storia del vescovo tedesco che è morto per bene e interpretano questa chiave di lettura dicendoci è vero che i tedeschi sono famosi perché sono grandi i bevidori è vero che il vino di Montefiasconi è un vino eccezionale e è famoso in tutta Europa però questa storia non è vera è usata solo contro la nazione tedesca vedete si tratta di quella che oggi chiameremmo attualizzandola una macchina del fango a Territteran noi non abbiamo una fonte certa non ci sono documenti o testimonianze dirette e quindi inizio a mettere proprio in dubbio le basi stesse di questa storia che poi è un percorso che diciamo a distanza di secoli anche tu hai fatto e qui mi riaggancio al discorso del primo libro ecco e io penso che sia interessante parlare anche di come tu hai messo in discussione questa leggenda diciamo una cosa io tendo sempre a distinguere chiaramente quella che è la leggenda da quella che è la storia e poi ci tendo a pensare io non è che un gusto sadico a fare il trottamatore della leggenda qualcuno mi ha definito che sono un eretico un pericoloso sovversivo per l'economia locale è uno scherzo è uno scherzo c'è stato addirittura ho sentito sentori di persone che volevano mettere in piedi una querella e non sto scherzo lo dico seriamente però la verità è che diciamo questo materiale effettivamente esiste anzi la sensazione è che siamo a ecco un vaso di Pandora la sensazione è che c'è talmente tanto da scavare da scoprire che sicuramente c'è da riscrivere quasi tutto quello che è stato detto è stabilito diciamo di quel periodo il primo signore che viene a Montedascone e diciamo documenta che a San Feviano c'era questa labile tombale con questa strana iscrizione prima di venire a Montedascone veniva da notte ci racconta che a Siena c'erano due sepolture in due chiese una la chiesa di San Domingo una la chiesa di Santo Spirito che sono chiese che non esistono più tra l'altro però questo è documentato perché è documentato anche da altri diciamo scrittori e ci raccontano di sepolture dove ci sono dei signori tedeschi che praticamente erano morti per bere il vino per bere troppo vino ci sono delle iscrizioni che si rifanno a questo fatto del vino e addirittura in una di queste labili c'era un foro predisposto per versare tutti la leggenda è ambientata cioè nasce nei primi decenni del 1500 cioè il primo documento che parla di una strana iscrizione nella chiesa di Santo Cano è del 1556 però come dicevo prima siamo diciamo in un walk in progress sempre qui c'è Massimiliano Marzetti che saluta lo ringrazio per la sua presenza che pochi mesi fa ha trovato un documento dove praticamente viene dato viene testimoniato dal punto di vista documentale che c'era la conoscenza diciamo di questa labile tombale con questa strana iscrizione e viene datata al 1503 e quindi diciamo già siamo andati di 50 anni indietro quindi dicevo la leggenda nasce nel 1500 parla di un evento che è ambientato tra il 1110 e il 1111 e il 1113 e diciamo la lastra tombale in questione viene convenzionalmente datata intorno al 1420 con questi presupposti non ci si capisce niente perché tutti i personaggi potenzialmente diciamo che avevano i requisiti per avere una sepoltura diciamo comunque importante all'interno di una chiesa importante perché San Fabiano non era una chiesa qualsiasi era una chiesa che nel suo periodo storico era una delle più importanti diciamo nel medioevo era diciamo il punto di incontro di tutte le vie teutoniche romee francigene tutte le strade che venivano da nord e poi vogliavano a San Fabiano poi andavano a Roma quindi non era una chiesa dove si poteva insomma fare applicare scherzi o le lade senza autorizzazione quindi diciamo tutti i personaggi che si prendevano comunque c'erano delle cose in piedi Marcello Mari qui presente da Fatir non ci si capiva niente in poche parole vado a fare due interventi faccio un intervento diciamo dove correggo delle commissioni e poi per forza di cose trago delle conclusioni e vado a fare delle correzioni e come diceva Flavia la datazione della strada urbana secondo me è l'elemento è l'elemento decisivo perché se noi portiamo indietro la datazione di questa lapide di due secoli allora vediamo che tutti gli elementi del pazzo non so se sono veri però diventano verosimili e quasi per assurdo è più facile diciamo che sia vero piuttosto che non sia vero perché effettivamente si incartera quasi vero perché scusa se ti interrompo uno degli elementi che logicamente non torna è che se viene sepolto a San Flaviano verso la metà del 400 tra il 1400 e il 1450 un personaggio molto importante come è possibile che 100 anni dopo che comunque lo spazio di una generazione o poco più se ne sia completamente perso il ricordo invece tu scrivi che retrodatando la lapide in poi ci sono anche delle prove iconografiche e delle lapidi del 1200 che sono molto simili alla lapide di San Flaviano diciamo che le analisi comparative del 400 hanno degli elementi validi però ce ne sono altrettanto validi se andiamo a fare un'analisi comparativa tra parte quinto la scienza procede per ipotesi quindi ipotesi 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 però diciamo la sensazione è che la semplicità diciamo degli abiti del soggetto che adesso che sia un laico o un religioso quello poi è un altro discorso la semplicità delle armi erardiche fanno tutte pensare più a 1200 piuttosto che a 1400 io già so le osservazioni che mi vengono fatte quindi diciamo magari non vorrei essere un po' te cioè io praticamente faccio un passo indietro metto in relazione diciamo la tua la lastra di un'opera di un episodio diciamo che coinvolge la morte violenta di un personaggio legato agli off-star agli imperatori poi diciamo se noi andiamo ad analizzare la storia di quel periodo vediamo che c'è un documento che è la mia pronuncia è un po' legibile comunque c'è un documento diciamo del cardinale Garampi che praticamente certifica che un editto diciamo di Federico Barbarossa che si riteneva fosse falso invece è autentico e quindi che significa significa che praticamente abbiamo quasi la prova provata che Montegliascone era probabilmente uno degli insediamenti degli sverbi più a sud diciamo prima di Roma era un cuglio diciamo di territorio politicamente controllato dagli sverbi a due passi diciamo dalla capitale e che anni siamo per collegare parliamo diciamo dal 1100 al 1200 un po' quindi andiamo a vedere comunque casualmente dove ci sono gli sverbi di mezzo c'è sempre un buco un vuoto nella memoria allora questo vuoto nella memoria è casuale o è diciamo provocato è strumentale oppure voglio dire è successo per caso provo a raccontarlo in un modo un po' alternativo allora provate a immaginare che ne so che qui a Montegliascone quest'estate perché parliamo proprio di lo stesso periodo l'agosto settembre immaginate che a Montegliascone viene il baracco Obama o Vladimir Putin e si ferma qui due mesi e non viene qui da solo viene qui con tutta la cancelleria l'amministrazione tutto l'albaratà e immaginate che in questi due mesi a Montegliascone succede qualche episodio che poi avrà diciamo degli stracci particolari immaginate che tra qualche secolo qualcuno si interessi di questo episodio e diciamo indaghi su questo episodio facendo film cioè dimenticandosi che qui a Montegliascone c'è stato Barack Obama o Vladimir Putin a Montegliascone è successa la stessa cosa nel 1234 agosto settembre qui c'è stato Federico II con tutta la corta con tutta la concelleria e stampiamo le prove abbiamo i documenti abbiamo soprattutto un documento che è probabilmente uno dei meglio conservati fatti da Federico II che è stato fatto a Montegliascone l'8 settembre 1234 e è costruito presso gli archivi del Ministero della Cultura Francese quindi parliamo diciamo di dati certi di cose certe allora raccontare la storia diciamo di quel periodo lì con Federico II o senza Federico II è chiaro che sono a cambio del prodotto che era il figlio del Barbarossa muore di fette intestinali e c'era Filippo I che era suo fratello che stava sportando Federico II lo portava in Germania e stava a Montegliascone questa è proprio un'ulteriore dimostrazione dell'importanza che Montegliascone che era verso gli svevi verso la corte svevo la situazione in quella circostanza c'è un fatto di sangue dove muore e appartiene a una famiglia che diventerà quando Federico II diventerà l'imperatore del Sacro Romano Impero sarà una delle famiglie diciamo più strumentali diciamo alla famiglia imperiale più collaterale della famiglia imperiale quando Federico II diventa imperatore quando non sta in Germania la svevia viene governata da questa famiglia i figli di Federico II vengono istruiti formati da membri di questa famiglia i gioielli della corona di Federico II vengono custoditi da questa famiglia quindi parliamo comunque di personaggi al massimo livello questo signore si chiama Federico di Tann Fredrik Fontan muore nel 1197 so solo che se mettiamo insieme questi pezzi per la prima volta riusciamo a raccontare questa storia quindi quando viene assassinato in che anno viene assassinato 1197 quindi viene assassinato Fredrik Fontan si muore in battaglia muore in battaglia si esattamente e il fratello il fratello è considerato il padre fondatore di una famiglia nobile sveva che è ancora esistente questo signore diventa il capo civile del casato Valdburg che tra l'altro ci ha imparentato come se voglia sono una grande casata di questa famiglia Valdburg fa parte un signore che poi tre anni dopo nel 1200 diventa arcivesco di Salisburgo l'arcivesco di Salisburgo che diciamo vanno un po' nel vivo non è un diciamo un arcivesco qualsiasi è una specie di papa del nord ha grande potere e questo signore piano piano trasforma la diocesi in uno stato temporale quindi diciamo quello che era una diocesi sotto questo signore sotto questo arcivesco diventa un arcivesco vado batte moneta diventa una stata vera e propria questo signore che era arcivesco si chiama Herbert von Felsenberg transita spesso in Italia e ha documentato che più di una volta sta a Biterbo e sta sicuramente a Montriascone nel 1210 allora ho sentito l'interazione dell'arcivesco di Salisburgo con il fortanto della secoltura perché hanno uno sterno molto simile allora ho detto prima che io so già tutte le osservazioni che mi hanno fatto perché già in 5 anni mi hanno detto giustamente mi hanno fatto tutte le osservazioni del caso le osservazioni mi vengono fatte sul diciamo l'arcivesco di Salisburgo ha uno sterno molto simile a quello che sta sulla rastra turbale del deserto ma dici che possiamo vederlo? c'è l'aria in assoluto una cosa in araldica si blasoma solo ciò che si vede che significa? a me mi sono state fatte delle osservazioni diciamo sulla probabilità dello sterno dell'arcivesco rispetto a quello del teafuck perché? perché c'è una definizione araldica diciamo dello sterno del teafuck che sta a sinistra scudo diviso in due diciamo due spazi verticali a sinistra un leone rampante a destra tre fasce fasciato sei pezzi si chiama cioè sono sei righe uno due tre quanto cinque sei mentre invece lo seme dell'arcivesco di salisburgo dell'arcivesco vado scudo diviso a metà leone rampante a sinistra una fascia rossa su argento una fascia argento su rosso però come dicevo prima in araldica si blasona solo ciò che si vede e quindi faccio un passo indietro se noi parliamo di 400 quelli che mi fanno questa osservazione hanno ragione hanno ragione perché se però parliamo di 1200 la sostanza cambia un pochino perché perché i colori dello stemma dell'arcivesco di salisburgo non ci sono documenti antecedenti al 1340 cioè noi nel 1340 sappiamo i colori diciamo dello stemma dell'arcivesco non per prima prima conosciamo questo stemma solo attraverso diciamo lapidi pietre e monete quindi non abbiamo né colori né smalti né partiture adesso se mi permetti io lo dico certo diciamo la lapide è un bale del defuc sono tutti d'accordo che è stata modificata non lo dico io allora quella a sinistra vi prego di guardare solo l'altro l'altro quindi vedete c'è una fascia centrale giunta e ci sono tre fasce uno due tre e sei pezzi ripeto io a me qualcuno mi chiama storico io ho pudore a farmi la storia io elaboro le immagini le informazioni che ho a disposizione e cerco di dargli un senso compiuto allora ripeto questo è lo stemma della cesca di spolgo questo è lo stemma del defuc lo stemma del defuc è stato modificato non l'ho detto io l'hanno scritto tutti i miei illustri interlocutori per far diventare lo stemma del defuc come lo stemma della cesca vado uno due tre quattro cinque se è facile è complicato è banale no? quindi abbiamo due stemmi identici molto 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 simili e un personaggio molto importante morto a Montefiascone e un altro personaggio il fratello del defunto diciamo altrettanto importante che passa a Montefiascone a questo punto credo che in macchina inserire soltanto l'elemento che a quel tempo le sepolture postume la sepoltura postume di Sanferiano non l'ho scritta io l'hanno scritta per i miei illustri interlocutori cioè sono tutti d'accordo che la sepoltura che noi conosciamo non è la sepoltura originale ma è la labide che conosciamo il frutto di una sepoltura postume quindi diciamo vabbè nell'iposisi che io poi sviluppo meglio del libro chiaramente c'è una sequenza temporale per cui la mia ipotesi si basa sul fatto si fonda sul fatto che la sepoltura che noi conosciamo sia la sepoltura postum quindi sono d'accordo con chi mi ha preceduto e queste sepolture postume non sono così eccezionali perché come diceva Fabio lo stesso al cinesco di Salisburgo viene sepolto prima in un sottotetto viene parcheggiato lì per 42 anni e poi trova sepoltura in chiesa quindi parliamo comunque di cose che avvenivano normalmente quindi tu cotizzi che sotto l'astra tombale perché distruiamo l'astra tombale dall'apide con l'iscrizione che viene successivamente possa essere sepolto Federico Montano diciamo dicendo la romana morte sulla bara cioè nel senso qualcuno deve essere stato quindi vi ripeto abbiamo un personaggio importante abbiamo delle familiarità importanti abbiamo uno stemma che non è lo stesso però è possibile diciamo che con piccole trasformazioni abbiamo delle circostanze storiche per cui probabilmente c'è stata una cancellazione della memoria che ha fatto sì che nel corso dei secoli non ci si capisse niente ecco io visto che siamo arrivati a questo punto quindi tu ipotizzi che sia stato sepolto credere in Fontane e siamo più o meno come anni per dare anche dei riferimenti cronologici ai primi del 1200 e a questo punto perché di questo personaggio così importante si perde ogni ricordo che cosa accade alla famiglia degli Svevi legatissima a quest'altra famiglia diciamo con tutti coloro che erano legati a Federico II diciamo all'imperatore una volta che l'imperatore muore e vengono sottoporsi a una feroce rannazio memoria rannazio memoria che diciamo letteralmente alla cancellazione del ricordo in che cosa consisteva consisteva appunto nell'abbrasione delle iscrizioni dalla cancellazione degli stenti addirittura c'era anche la diffusione di notizie infamanti ci sono delle situazioni per cui c'erano i tribunali le persone che erano colpite dal nazio memoria venivano rappresentate non solo il loro ricordo veniva cancellato ma venivano rappresentate che so in atti sconvenienti per dire c'erano dei ritratti dove delle persone uccidevano i bambini cioè facevano delle cose per cui il loro ricordo non solo veniva cancellato ma in ogni caso se sopravviveva veniva diciamo danneggiato questa è stata una pratica molto diciamo applicata nel caso di Federico II in maniera molto feroce negli ultimi carteggi che ci sono tra il Papa e l'imperatore viene usato proprio il vino come argomento cioè Federico II risponde al Papa e gli dice tu pensi di governare il mondo ma non è così tu governi il mondo quando sei ubriaco cioè capito viene usato l'argomento del vino infatti Federico II muore scomunicato mi pare nel 1245 che è la seconda volta perché è stato già scomunicato prima ma poi era a Verona in compagnia dell'Arcesco di Sarisburgo esattamente e che poi morì e non fu sepolto nella sua chiesa per questo motivo nel 1250 muore Federico II e a Viterbo che è una città pontificia si scatena proprio da un'azio memoria forse inaudita nel senso che viene raso al suolo il suo palazzo sì secondo la tradizione addirittura c'è chi scrive la distruzione del palazzo di Federico dovrebbe essere totale assoluta addirittura qualcuno ha scritto anche che non dovevano essere riutilizzati i materiali diciamo di scarto proprio come forma estrema di dannazione di morire una cosa molto comune recuperare i materiali della distruzione di altri edifici come è stato fatto col pantone a Roma sì sì diversi addirittura poi sempre parlando di Viterbo c'era un membro della famiglia Gatti che era una famiglia diciamo guerra che poi si mette con i chibellini nel palazzo c'era lo stemma al Brasano insomma per dire che era una pratica molto minusa non era più eccezionale ma sempre da Montefiascone c'è un altro evento molto importante perché è proprio dalla cattedrale di San Flaviano che il Papa scomunica Pietro d'Aragona che è una cosa che è questo diciamo un altro passaggio diciamo del mio studio ho fatto tantissimi medievi a San Flaviano personalmente ho fatto centinaia di fotografie in alta definizione zoomate strette insomma girando per la chiesa non ho potuto fare a me non sono ad ammirare ci sono degli affreschi servitosi e ce n'è uno in particolare entrando a sinistra che c'è dove c'era la rappresentazione dell'incontro dei tre primi con i tre morti però di fatto in questo affresco ci sono dei dettagli e dei particolari molto evidenti visibili che sono sfuggiti a tutti un po' come Federico II con la presenza di Federico II cioè non c'è bisogno di di grosse cletti nell'affresco sono evidenti simboli di Pietro III d'Aragona Pietro III d'Aragona era praticamente il marito di Costanza la figlia di Manfredi che era il figlio di Federico II quindi praticamente ci sono i simboli degli Aragonesi e lei mi diceva prima a San Fabiano nel 1282 Martino IV scomunica gli Aragonesi perché avevano scatenato la guerra del Vesco Siciliano e questo è l'avvenimento storico che segnerà la fine del 200 c'è un grande storico dell'arte italiana che si chiama Claudio Strinati che sostiene praticamente negli affreschi medievali quasi sempre c'è un doppio messaggio perché gli affresca un po' la nostra CNN la nostra telenovela per noi c'era un messaggio diretto per diciamo per la popolazione l'alfabella però spesso c'erano dei messaggi anche destinati dall'elite e per quello che diciamo mi riguarda io credo che la lapide del defunto e il contenuto dell'affresco diciamo dei tre bivoli che sono morti a San Fabiano abbiano un filo rosso diciamo che riunisca una relazione legata appunto all'opposizione al Papa che avveniva pure all'interno della Chiesa perché in ambiente cioè prima il confine tra l'eresia e la santità era sottile bastava pochissimo per passare dalla santità a loro specialmente in ambienti francescani questo tipo di iconografia era molto diffusa no tornando alla leggenda che Giasius diciamo smonta e c'è quindi tu ipotizzi che sia stato sepolto questo personaggio poi vi sia stato a partire dalla fine del 200 una sorta di amnazio memorie e quindi il suo ricordo si perde a un certo punto però oltre alla lastra tombale compare una lapide questa lapide che racconta di un vescovo morto per il troppo bere ecco a questo proposito ci sono delle interpretazioni che dicono che questa lapide è stata un colpo di genio di cittadini molto fiascone e a noi ci piace anche un po' pensare che sia vero perché hanno usato una lastra tombale insomma stava lì non diceva niente a nessuno per lanciare un brand come tu dici io non ci credo a questa cosa cioè io mi rifiuto di credere che in una chiesa come San Flaviano entrava un picco pallino qualsiasi e scriveva qui c'è morto perché è venuto tanto cioè non esiste però diciamo che sia successo poi l'interpretazione sia stata quella però dal punto di vista storico non è credibile ma non è che lo dico io non è proprio credibile San Flaviano ripeto non era una chiesa qualsiasi era una delle chiese più importanti nel tragitto della Francigia poi a tali proposito tra l'altro non è che voglio fare il distruttore per forza di cose però all'inizio del 900 una rivista di filologia tedesca di un certo Mayer adesso non ce l'ho schermata però non è importante fidatevi sulla parola insomma apparentemente c'è un signore tedesco filologo amico di Ghett quindi personaggi diciamo al mazio livello che dà un'interpretazione puramente ideologica dell'iscrizione e apparentemente le traduzioni e le troncature che noi abbiamo diciamo interpretate come qui giace Giovanni Defu che lui invece l'ha interpretate come che il nostro signore ci protegge eccetera eccetera adesso gli dà solo una definizione ideologica grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti